Namaste, benvenuto in questo video. Vediamo come ci si siede in meditazione. Sicuramente sfatiamo subito alcuni miti, alcune credenze. Per meditare non serve, non c'è bisogno di stare nella classica posizione del perfetto loto. Possiamo stare seduti anche su una sedia, infatti vediamo anche come ci si siede sulla sedia. E non è vero che bisogna essere scomodi e soffrire durante la pratica di meditazione, anzi dovremo trovare il nostro, il modo quanto più comodo per rimanere seduti, per riuscire a rimanere seduti, perché ovviamente la postura che scegliamo va ad influenzare poi la qualità della nostra pratica. Personalmente quella che scelgo sempre è Sukhasana, quindi un piede davanti all'altro e un cuscino da meditazione, ce l'ho quasi sempre con me, o un blocco, oppure abbiamo qui anche una coperta. Quindi che cosa vogliamo, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo sarebbe quello di avere proprio le ginocchia a terra e di avere le ginocchia sulla stessa linea dei fianchi, o meglio ancora leggermente più basse rispetto ai fianchi. Per questo motivo uso il cuscino e come vedete i miei fianchi sono più alti. Non vado a sedermi completamente, ma vado a sedermi più che altro all'inizio del cuscino, la stessa cosa sul blocco. Quindi abbiamo i fianchi più alti rispetto alle ginocchia ed è più facile con un supporto sotto i glutei rimanere con la schiena dritta. Molto spesso senza supporto quello che succede è che la schiena a un certo punto fa questa curva, quindi collassa lì indietro. Con un supporto sotto i glutei è molto più facile rimanere con la schiena dritta. Altra cosa, come dicevo, come ho detto poco fa, le ginocchia sotto i fianchi. Molto spesso quello che succede è che una persona si ritrova con le ginocchia molto alte ed è invece importante, come ho detto, che i fianchi siano più alti rispetto alle ginocchia. Quindi se hai bisogno di mettere più cose, quante più cose, quanti più props, oggetti possibili sotto di te per riuscire ad arrivare in questa posizione. Ovviamente se le ginocchia sono così alte, se la schiena si curva indietro, possiamo meditare su una sedia. Quindi ci sediamo sulla sedia. Anche qui idealmente non andiamo proprio seduti appoggiando tutta la schiena sullo schienale. Se proprio ti vuoi appoggiare vai più indietro che puoi con i glutei, con i fianchi e poi dopo la schiena dritta, ma meglio ancora se ti siedi all'inizio della sedia con i piedi ben radicati, non questa posizione, non incrociamo, ma piedi radicati e le mani sulle cosce. La schiena dritta, rilassi le spalle, lasci cadere i gomiti verso il basso. Puoi anche scegliere un mudra, un palmo sopra l'altro e stare in questa posizione. lungo e profondo respiro. Anche qui se vuoi puoi mettere una coperta sotto. Quando siamo seduti gambe incrociate possiamo decidere, come abbiamo visto anche qui, dove mettere le mani. Un mudra, un gesto più introspettivo è quello di poggiare i palmi verso il basso sulle ginocchia o meglio ancora un pochino più indietro sulle cosce, in modo da rilassare proprio le braccia verso il basso oppure con i palmi verso l'alto, quindi più accogliente, più di apertura e se vogliamo anche pollici e indice uniti. Altra cosa possiamo mettere un palmo sopra l'altro e può aiutare ancora per comodità magari avere qui la coperta e qui le mani, quindi proprio per rilassare ancora di più i nostri gomiti, le braccia e le spalle. Quindi è importante trovare il giusto compromesso, trovare quella postura, quella posizione che ovviamente se mantenuta per 30-40 minuti, un'ora non è proprio comodissima, ma sicuramente quanto più comoda possibile, quanto più facile possibile in modo da poterla mantenere durante la pratica di meditazione. Ti ringrazio per aver seguito questo video e buona pratica, buona meditazione!